RISCHARDT Da quant'è che ti dai a questi piccoli svaghi extra coniugali? È la legge delle coppie che durano. Nessuna esclusa. In 25 anni io non ti ho mai tradita. Richard! 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 Disapprovo totalmente il tuo comportamento. Quello che mi hai fatto è disgustoso. Come fai ad essere così giovane? Forse sto impazzendo. Quando mi hai avvisato che da vecchia ti saresti comportata uno schifo, hai visto come mi hai ridotto? Perché hai risvegliato il passato, Maria? Quella chi è? Non ti ha mai parlato della sua insegnante di piano al conservatorio? Solo tu puoi ridarmi quello che mi hai tolto. Richard! Non aprire, ti prego, non farlo! Citta! Desamè, non chiar vivrà sulle... Molto bene le riassumo la situazione. Lei ha spinto in braccio al suo maturo marito il suo primo amore. E ne approfitta per portarsi a letto lo stesso marito che però all'età di quando l'ha incontrato. Per una volta che mi concedo un piccolo capriccio... Maria, abbiamo la lista di tutti i tuoi capricci. Come avete la lista? Allora, chi è chi? Oh, il cugino Pierre! Chi è che va a letto col cugino dopo i quattordici? Lo fanno tutti! E credi che saremmo felici così? Beh, lei ti ha da vecchio, io da giovane. È perfetto, no? E' questo che vuoi veramente. Aspetta! Grazie per la visione!